Presidente cosa è successo? Stiamo cercando di capirlo. È il casino però. Stiamo cercando di capirlo. Però l'avete votato voi no? No. Non l'avete votato voi? No. E l'amendamento uguale a quello che avevate presentato voi? Insomma. Appunto secondo me faremo una roba così? Vi sembra un po' strano. Nel voto segreto non siete stati voi anche se Salvini dice che... Stiamo cercando di capire cosa è successo e di certo l'indicazione del gruppo è stata quella di votare secondo le indicazioni del governo. Assolutamente. Il fatto che questo emendamento favorisca anche lei? Non favorisce assolutamente nulla questo emendamento perché questa legge passerà come deve passare e non è certo stata indicazione nostra quella di votare. Uva al suo collega dice così non si può andare avanti.